Fenestrelle, campo di sterminio. Perché insistono sull'aspetto naturalistico e turistico di Fenestrelle? E non menzionano affatto le atrocità e i crimini commessi in questo terribile luogo di morte? Anche Auschwitz e Guantanamo potrebbero essere propagandati sotto l'aspetto naturalistico e turistico. Ma questo non viene fatto. Perché questi due pesi e due misure? Non lasciatevi ingantare dalle belle immagini riprese dall'alto. Non lasciatevi influenzare dalla loro mistificazione. Fenestrelle era e resta anche un grande campo di sterminio. Fenestrelle era e resta anche un luogo di morte. Fenestrelle era e resta un inverno per l'umanità. La loro propaganda, fatta con queste belle immagini, li farà ancora cuocere nel brodo della menzogna. Fenestrelle, un campo di sterminio, un luogo di atrocità, di massacri, che vorrebbero ancora restare nascosti e impuniti. Fenestrelle, il campo di sterminio più grande del mondo, che ci crediate o no. Qua, e in altri analoghi campi di sterminio, furono annientati i soldati duo siciliani che rimasero fedeli al patto di fedeltà giurato al loro popolo e alla loro vera patria, il regno delle due Sicilie. Fenestrelle è il simbolo della vergogna e della menzogna di uno stato massonico, spacciato per italiano, ma che è il più acerrimo nemico di quel popolo italiano che dice di rappresentare. Fenestrelle, che siano commemorati in questo luogo di morte tutti gli italiani che furono ammazzati nel nome di una falsa e ipocrita unità d'Italia. Qua regna la morte. Qua, in questo campo di sterminio, c'è ancora la barbarie. Qua, vivono ancora impunite la ferocia, la crudeltà e l'infamia massonica. Qua, la menzogna non viene smascherata, ma amplificata e fatta passare per verità. La spettacolarità delle immagini non cancella i crimini che furono commessi in questo luogo di terrore e di sterminio. Altro che Auschwitz, altro che Guantanamo. I corpi dei trucidati venivano sciolti nella calce viva affinché non restasse traccia dei delitti commessi. Fenestrelle è la vergogna e il disonore di quei criminali massonici cosmopoliti che, massacrando tantissimi italiani e mettendo a ferro e fuoco tutta l'Italia, costruirono su di essa il loro stato nel 1861. Come disse giustamente proprio il massone Edmondo di Amicis, Fenestrelle è una sorta di gradinata titanica. Come una cascata enorme di muragli a scaglioni, un ammasso gigantesco e triste di costruzioni, che offre non so che aspetto misto di sacro e di barbarico. Come una necropoli guerresca o una rocca mostruosa, innalzata per arrestare un'invasione di popoli o per contenere col terrore milioni di ribelli. Campo di sterminio di Fenestrelle, una mostruosità che non deve e non può essere dimenticata.